Sarà l'artista Cagliaritano Tellas a realizzare la nuova opera di street art a Faenza sulle mura dell'ex sede del Centro Culturale Il Do in via Mura Mittarelli. L'opera dal titolo Terra e Mare costituirà un ponte che collegherà idealmente la città di Faenza e Palermo, capitale della cultura, 2018 dove il MEI organizzerà quest'anno la Festa della Muschia dove l'artista 33enne decorerà un secondo muro. Le opere che i concorrenti al bando, detto dal distretto A, dovevano proporre, dovevano rappresentare le caratteristiche opposte ma complementari delle due città, i monti e il mare, i colori caldi e i colori freddi che uniti creano una nuova realtà. Nato e cresciuto in Sardegna, Tellas è uno street art istantemente apprezzato a livello internazionale. Nel 2014 è stato fra i 70 artisti selezionati alla Biennale di Street Art di Mosca. Nel 2015 realizza un'enorme opera pubblica per Cagliari, capitale della cultura italiana per quell'anno, mentre nel 2016 lavora in Spagna e in Australia, a Madrid, Albany e Perth, oltre a collaborare con alcuni marchi di moda e partecipare alla Biennale di Venezia. 51 le proposte arrivate sul tavolo dei giurati per il doppio concorso di Faenza e Palermo provenienti da diversi paesi, Francia, Germania, Spagna, Ucraina, Brasile, Stati Uniti, Canada e Messico, solo per citarne alcuni. Il progetto di Tellas, declinato in due varianti per i due diversi muri, si legge nella motivazione al premio, vince in quanto rappresenta e sintetizza idealmente, attraverso forme e colori, quegli elementi distintivi delle due città nelle quali si andranno a realizzare le opere. Inoltre, la textura apparentemente astratta, composta nel dettaglio di elementi evocativi floreali e minerali, si inserisce con equilibrio compositivo in scale architettoniche, in entrambi i casi, creando un legame a distanza e mantenendo un carattere di originalità negli specifici contesti. Le opere ultimate saranno presentate al pubblico in due diversi momenti. A Faenza, il 18 maggio, in occasione del Distretto A Weekend, il nuovo format della cena itinerante. Mentre il 16 giugno, nell'ambito di Palermo, capitale della cultura 2018, sede della Biennale d'Arte Contemporale, manifesta 12, in occasione dell'evento May Giovani, organizzato per la festa della musica. Al progetto è collegata una campagna di crowdfunding per il sostegno del premio sulla piattaforma Plan B, specializzata in raccolta fondi per progetti legati ad architettura, riqualificazione urbana e natura. La campagna, a ricompensa, punta a raccogliere una somma pari a 3.500 euro con i quali finanziare la realizzazione dei lavori.